Allora vi faccio vedere per la precisione. Allora questo è un'oncia troi, un oncia del sistema imperiali britannico che è circa 31,1 grammi, qui c'è un margine di errore. L'oncia normale invece è 28 grammi. Vi avevo promesso il video sull'oro, è arrivato il video sull'oro o perlomeno sulle mie monetine d'oro perché ho scelto delle monete piuttosto che dei lingotti, perché ho scelto di acquistare e investire in oro. Ci arriviamo, un punto per volta, se sei arrivato qui attirato dal titolo mi raccomando ricordati pure di iscriverti e di lasciarmi un commento. Te lo dico all'inizio, non ti chiedo il mi piace perché non serve a nulla, piuttosto condividi, condividi se ti piace o se può essere interessante questo discorso con un amico. Torniamo all'oro. L'oro è il bene rifugio per eccellenza. Ma che significa bene rifugio? È un bene che ha un valore intrinseco, cioè è un bene che tu puoi rivendere così com'è e averne un vantaggio economico. Ora, io ho scelto di acquistare delle monete e tra parentesi ci sono andato proprio sotto con il male 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 con il collezionismo, però non so se si nota a livello di camera la bellezza della moneta, ma la bellezza anche di tenerla in mano. Non per altro perché è pesantuccio, questa monetina pesa 31 grammi. Forse in camera non sembra, ma va a un'oncia praticamente. Un'oncia sono circa 31 grammi. Quindi questo ha un peso di 31 grammi. Quanto vale al grammo l'oro? 50 euro. Oggi potrebbe variare, quindi da quando registro questo video potrebbe succedere di tutto, però oggi vale 50 euro. Quindi questa roba qui fate 50 per 31 e avrete il calcolo dell'oro, quindi della vendita di questa moneta se io volessi squagliarla, per non si sa quale motivo. Ora, questa moneta, essendo una moneta, può essere scambiata come pound. In realtà questo vale 100 pound, quindi circa 120 euro. Ma se già 2 grammi di oro fanno 100 euro, vale la pena scambiarla per 100 pound? No, non ne vale la pena. E allora, perché si acquista in monete e non in lingotti? E soprattutto io acquisto in monete e non in lingotti, non è un consiglio finanziario, ti vi dico quello che faccio io. E anzi quello che in effetti ho assentito da uno dei miei mentori per eccellenza, ovvero Roberto Buonanno. Lo ringrazio, ci tengo a sottolineare. Poi un giorno ve lo porto pure sul canale. E lui mi ha fatto appassionare a queste monetine qui. Il bene rifugio è una cosa che tu devi avere nel caso vada tutto male. Se domani si tornasse alla moneta, la carta, in effetti, può avere un'inflazione pazzesca. Diciamo che l'oro di solito nei periodi di crisi invece se la cava piuttosto bene. Anzi, anzi, non so se avete mai sentito che nei periodi di crisi di solito i bene rifugio, come orologi, metalli preziosi, diamanti e via discorrendo, tendono a salire. Questo perché hai qualcosa di tangibile in mano. Ora, è importante suddividere le cose. Ovvero, non è che se uno sta incominciando oggi a investire ha necessità di prendere un capitale in oro. No, assolutamente no. Lo fa quando si vuole creare un asset abbastanza diversificato. Ora, con due monete d'oro fai un asset diversificato. Io queste le ho pagate di circa 1600 euro l'una, quindi con 3000 euro tu non fai un asset diversificato. Questo è più una collezione un po' costosa, però abbastanza rivendibile. Il punto è che, qualora voleste diversificare, come faccio io, lo sapete, vi ho portato sul canale LeCripto. Beh, sto continuando a portare. Abbiamo parlato di investimenti in azioni. Io, dal canto mio, ho anche partecipazioni in altre società, quindi non solo in borsa, non solo quelle quotate in borsa, ma anche in startup varie. E poi ci sono tantissimi metodi per investire, per avere in qualche modo un salvadanaio. Ecco, uno di questi è l'oro e io non volevo farmela scappare questa occasione di avere un po' di oro per me. Questi sono 62 grammi d'oro. E perché ho scelto le monete invece che il classico lingotto? Perché, oltre al valore dell'oro stesso, potrebbero aumentare di valore anche per la moneta, per il conio. Quindi c'è anche un valore numismatico. Per spirito di completezza vi faccio vedere qualche altra moneta. Come vi raccontavo, ce ne sono di grammature, ma anche di grandezze differenti. Questa è una sterlina d'oro di R. Giorgio V da 7,32 grammi. Qui invece questa è da 50 pesos messicano da 37 grammi e siamo già sui 2.000 euro. 20 franchi francesi, 5,81. E via discorrendo, ce ne sono veramente tantissime, vi potete sbiezzarrire. Io una moneta che vorrei avere nella mia collezione è questa, però è una moneta di 2017 che ad oggi ha acquisito valore. Perlomeno sembra che abbia acquisito valore. Se io la vado a ricomprare la pago 2.400, quando normalmente dovrei stare sui 1.600, 1.700. Altra cosina simpatica, vi faccio vedere il pre-sale, perché ci sono delle monete che devono ancora uscire. Comunque saranno cognate quest'anno, come questa che è bellissima, dove ci sono tutti gli animali che sono stati ritratti sulle monete. Ancora questo cavallo invece, che è lo stesso che vi ho fatto vedere, questo qui. Questo è da 7,78, mentre il mio è da 31 grammi. Dovesse qualora, che ne so, questa moneta qua diventare rara, oppure c'è un conio particolare in cui magari fanno quel classico errore, no? L'errore di stampa del conio. Oppure succede qualcosa di particolare, tipo questa dietro c'ha la regina Elisabetta, che è immortale. Io le auguro ancora 200-300 anni, però il punto è che dovesse, mettiamo colpo, povera regina, potrebbero prendere un po' di valore aggiuntivo. E così è successo per altre monete, che se andate ad acquistare adesso, troverete forse anche al doppio del prezzo. È come al solito un terno all'otto, però è una possibilità aggiuntiva che il lingotto effettivamente non ha. Parliamo del mio personale gusto. Io sono andato a fare ricerca di monete d'oro per, in qualche modo, accalappiarmene qualcuna. E ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le nazionalità. Ho scelto la sterlina perché è quella con una purezza un po' più elevata. Ci sono qualcuna in minore, questa è il 99.9%, 24 carati. Però se per esempio scegliete quella messicana, mi sembra, ha una purezza leggermente inferiore. Ora, ovviamente quelle sopra a 9000 è considerato oro, però non si sa mai. Cioè è considerato oro che si può bene, si può scambiare, è proprio il bene. Però sai, non si sa mai, io ce l'ho buttata lì e ho detto, sai che... Quindi fate attenzione anche alla purezza, ok? Considerate che deve essere sempre sopra il 90%. Essere fregati su sta roba è molto facile, quindi non fatevi fregare. Questa, per esempio, la purezza del Galletto e Mariana è di 900 su 1000. Mentre, come vi ho spiegato, questa della sterlina è di 999 in purezza. Quindi 99,9% in purezza. Una piccola cosetta che ho scoperto documentandomi sull'oro. Nell'antichità le monete non avevano questa zigrinatura qua. Perché secondo voi adesso tutte le monete un po' hanno la zigrinatura? Perché nasce tutto proprio dall'oro. Proprio dall'argento. Praticamente hanno la zigrinatura perché c'erano i furboni che a un certo punto decidevano di grattare via poco poco l'oro. Quindi ce le facevano loro le scanalature, riducevano la moneta e con quell'oro, magari con 50 monete di oro, ce ne facevano mezza. Grattando piano piano la superficie. Piccola stupidaggine storica a parte. Ecco quindi la differenza tra il lingotto e la moneta. Tuttavia parliamo anche della pericolosità perché tenere delle monete d'oro o un lingotto d'oro a casa è abbastanza pericoloso. Quindi state attenti se volete fare questa scelta. Io ovviamente in questo caso ne ho un paio, ho in mente di prenderne altre, ma penso che le metterò in una cassetta di sicurezza. Oppure ci sono degli istituti dove voi potete affittare, cioè proprio prendere dell'oro, acquistarlo e lasciarlo nel cavo. Anche questa è una cosa molto intelligente. Si prendono una percentuale dell'acquisto per mantenervelo in cavo, alcuni si prendono 0,5%, alcuni l'uno, insomma, a seconda di dove scegliete. E voi sapete che ci avete l'oro in buone mani e assicurato perché se qualcuno arriva a Lupin quarto nel cavo e se lo ruba voi ci avete l'oro assicurato. Tuttavia perché alcune persone scelgono di prendere l'oro e di metterselo a casa? L'abbiamo detto. Uno non perde valore nel tempo, però se lo perde comunque a lungo termine è sempre andato in salita. Poi, soprattutto perché un lingotto d'oro da un chilo, sapete quanto è grande? Un po' di più di questo iPhone. E ci avete 50.000 euro in mano. Cioè, la potenza di avere un iPhone, più o meno, e di averlo d'oro con 50.000 euro. Quindi capite che spostare grosse somme di denaro con l'oro diventa più semplice. Una cosa che non vi ho detto è che esistono delle pezzature di monete più piccole. Quindi se volete fare un regalo a un amico, ci sono anche le monete che pesano molto di meno. E ci sono anche quelle d'argento. Io per esempio vorrei acquistare delle monete d'argento, ma giusto per il gusto di collezionarle anche quelle. Però le monete d'argento costano intorno ai 100 euro. Sembra la stessa grammatura. Ci sono delle monete in oro molto più leggere, quindi le trovate anche da 9 grammi o qualcosa di meno. È un regalo, secondo me, che può avere una certa importanza. E poi vuoi mettere che regalo altologato, no? I regali, gli regali l'oro. Che secondo me è anche molto meglio di diamanti, perché dei diamanti devi conoscere la purezza, il colore. E' un po' più incasinato. L'oro, sai che c'è stampato 99,9999, sai che al 99.9% è puro. Quindi stai abbastanza tranquillo. Facciamo il finale, perché io so che arrivate qui e mi dite, eh, me nico, dove posso comprare queste monete? Dove posso comprare l'oro? Bene, in questo video ho deciso proprio di non farlo. Sto cercando qualcuno, un partner, che spieghi meglio alcune dinamiche, perché io ve le posso spiegare come lo fa un amico al bar. Non sono il più esperto del mondo. E mi piacerebbe coinvolgere un partner. Lo sono alla ricerca di questo partner. Se conoscete qualcuno legato al mondo dell'oro, che vende monete, che vende lingotti, sono molto, molto interessato a parlarne, magari a portarvi un video un po' più completo sul canale, se l'argomento vi interesserà. E quindi mi dispiace, se sei arrivato qui, ti sei incazzato perché non sai, non ti consiglio dove acquistare l'oro, in questo momento specifico non me la sento. Ce ne sono tanti, quindi basta cercare oro online, ce ne sono una caterva. Però io oggi mi astengo. Detto questo ci vediamo al prossimo video. Magari vi ho incuriosito un po' sull'oro. Fatemi sapere, ci vediamo alla prossima.